Un'intervista con un taglio un po' diverso, più umana, perché forse è questo che contraddistingue un po' le nostre interviste, perché si fanno alle persone, non si fanno ai candidati che hanno questa impalcatura da candidato, a me piace molto poter far parlare alle persone di quello che sono veramente, quando sono a casa, per strada e compagnia vera. Quindi credo che questo sia un modo particolare di condurre le interviste nella campagna elettorale, non è che mi voglio vantare, ormai dopo tanti anni qualcosa penso di saperla fare. Quindi che cosa sta accadendo? Non si sono inaspriti gli animi, come qualcuno temeva, ah ora vediamo che cosa accade. C'è anche da dire che manca un mese e mezzo, forse siamo partiti troppo presto, abbiamo consumato tutte le argomentazioni che se fossero arrivate a 15 giorni prima ci sarebbero stati i fuochi d'artificio. Quindi è probabile che poi si riaccenderà nel prossimo futuro. Però una cosa della quale dobbiamo assolutamente essere certi è che non si esageri anche nel modo di condurre la campagna elettorale. Sappiamo che si fanno gli incontri, è giusto che sia così, chi va nelle campagne, chi va alle case popolari, chi va in tante, è giusto così. Però c'è una segnalazione che ci viene fatta dal Circo di Ragusa di Fratelli d'Italia, che dice che negli ultimi giorni si è assistito ad alcuni episodi che gettono allarme, e dice alcuni candidati al Consiglio Comunale, quindi non stiamo parlando dei quattro candidati a sindaco, dopo aver ufficializzato le candidature hanno tenuto presso istituti scolastici del capoluogo incontri con gli studenti al fine di fornire agli stessi gli strumenti giusti per votare usando espressioni che spesso vengono utilizzate nei social. Pare inoltre che domani, 12, sia stato organizzato un altro incontro in cui uno dei detti candidati dovrebbe discutere con gli studenti sul tema della legalizzazione delle droghe leggere. Io ho parlato anche di questo poco fa, perché non è reato assumere delle droghe, purtroppo questo è così, io non sono poi così favorevole, però quello che mi preoccupa è che i candidati vadano nelle scuole, a meno che non sono camuffati da operatori, nel senso che se uno magari è medico va nelle scuole, parla, però nello stesso tempo si fa proporzione. Io le scuole lascerei da parte, in questo momento non andrei a coinvolgere, anche perché magari sono solo le ultime classiche dove ci sono quelli che possono votare, ma lasciamoli stare, lasciamo i ragazzi che pensino loro a come fare, piuttosto che andare da loro a convincerli a votare per uno o per l'altro. Quindi la segnalazione fatta dall'avvocato Settinieri mi sembra abbastanza giusta, ci manca ribatto. Tra l'altro loro hanno anche segnalato, la Fratellità ha segnalato al Preside e il Preside dovrebbe dire queste cose non le facciamo, io sono d'accordo su questo. Allora, vi dicevo, questo è un periodo in cui c'è ben poco da dire, però voglio tornare un attimo a Domenica di Pasqua. Noi abbiamo visto sempre la pace a Comiso, la Madonna Vasa Vasa, però guardate che a Ispica, guardate queste immagini, sono particolarissime. C'è lo stesso concetto, c'è praticamente l'incontro fra la Madonna e Gesù, però io non le ho visti mai ballare così dalle nostre parti. Guardate, questo effetto è davvero particolare. Abbiamo visto per esempio a Modica che è molto mistico il velo che si abbassa, le colombe che volano lì nel pieno silenzio. Abbiamo visto a Comiso con le vare che poi ci sono gli angioletti che salutano, ma tutta questa ballata in verità non l'avevo vista. Questo è il momento dell'inchino, della Madonna a suo figlio dopo che è risorto. E allora devo dire che non la conoscevo questa tradizione, mi ha fatto piacere vederla e ora io chiudo il nostro telegiornale rimandando per intero con l'audio originale questo pezzetto e poi lasciando a Gianni Papa la chiusura parlando del giro di Sicilia con l'arrivo domani a Vittoria che sarà davvero interessante. Grazie, ci vediamo con le prossime edizioni.